Di seguito, alcuni suggerimenti per l'utilizzo del set per manicure-pedicure MP42 di Boirer. Per iniziare, si raccomanda di evitare qualsiasi pretrattamento in acqua, poiché gli accessori per levigare sono meno efficaci sulla pelle ammorbidita o umida. Per iniziare a utilizzare il set per manicure-pedicure, inserire l'alimentatore nella presa, ma non accendere l'apparecchio. Scegliere l'accessorio desiderato e installarlo con una leggera pressione sull'asse dell'apparecchio. È possibile scegliere tra sette accessori diversi. Un disco in zaffiro a grana fine e uno a grana grossa. Una lima in zaffiro, una lima in feltro, una lima per calli in zaffiro, una fresa a cilindro e una fresa a fiamma. Per rimuovere o sostituire l'accessorio, staccarlo dall'apparecchio con una trazione diretta. È inoltre possibile applicare il cappuccio protettivo per raccogliere la polvere delle unghie e le particelle di pelle. Accendere l'apparecchio spostando l'interruttore a scorrimento verso il basso, rotazione a sinistra o verso l'alto, rotazione a destra. Il cambio di direzione viene segnalato anche dalla variazione cromatica del LED. I due pulsanti, contrassegnati con più e meno, permettono di aumentare e ridurre la velocità. Iniziare l'applicazione a una velocità bassa e aumentarla solo in caso di necessità. A seconda della velocità selezionata, sulla superficie dell'apparecchio vengono visualizzati LED blu. Non esercitare una forte pressione e avvicinare sempre gli accessori con cautela alla superficie da trattare. Quando si lavora sulle unghie, passare l'apparecchio con movimenti rotatori lenti sulle parti da trattare, applicando una leggera pressione. Inoltre, per limare le unghie, procedere sempre dall'esterno verso la punta. Dopo il trattamento, spegnere nuovamente l'apparecchio, posizionando il cursore su zero. Dopo ogni trattamento, applicare una crema idratante sulle parti trattate. Scollegare l'apparecchio dalla corrente per pulirlo. Fare attenzione a pulire il set per manicure e pedicure solo con un panno leggermente inumidito, senza mai immergerlo in acqua. Prestare attenzione anche alle istruzioni per l'uso e alle abbertenze di sicurezza. Ci auguriamo che sarete soddisfatti del set per manicure e pedicure MP42 di Boirer. Mantenetevi in forma!